Inferiate per finestre. Ciao sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973. Ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema Bisacchi e anche di inferiate. Le inferiate per le finestre si dividono in due famiglie principalmente, le inferiate fisse e le inferiate apribili. Ci sono dei casi nelle finestre dove potrebbe andare bene anche un'inferiata fissa, nelle porte finestre è obbligatoriamente importante avere giustamente un'inferiata apribile perché altrimenti la porta finestra non ti permetterà di andare all'esterno. E di inferiate apribili ne esistono diversi tipi. Abbiamo quelle impacchettabili, quindi si va a impacchettare tutte su un lato o su due lati, abbiamo quelle apribili ad anta sull'esterno e abbiamo anche quelle snodate che si aprono sia dentro che esternamente. Queste sono molto comode ad esempio quando si hanno gli scuori per poter aprire e chiudere gli scuori senza l'impedimento dell'inferiata. Poi esistono delle inferiate molto particolari, magari a sollevamento, motorizzate, che si impacchettano in alto, però queste sono abbastanza rare e poco utilizzate. Le inferiate soprattutto, e la cosa importante, è scegliere la classe antifrazione perché è difficile che l'inferiata venga fatta per la bellezza, solitamente si fa per la sicurezza. E le classi antifrazione, se hai seguito gli altri video, sai che vanno dalla 0, che non è stata testata, fino alla 6. Difficilmente troverai inferiate classe 6, ma anche classe 5, c'è qualche caso sporadico e un'esagerazione. La classe più giusta per una inferiata è la 2, la 3 o la 4, a secondo di quanta sicurezza serve in quella zona e in quel tipo di abitazione, o magari nel piano, piano terra di una villa isolata, sarà diversa il grado di sicurezza che serve rispetto a un quinto piano in centro abitato. Ecco, se vuoi un consiglio su quale soluzione è meglio per il tuo caso specifico e quale grado di sicurezza è meglio per il tuo caso specifico, puoi valerti del servizio di consulenza con Sistema Bisacchi. Puoi saperne di più su www.blogbisacchi.it dove puoi pronotare la tua consulenza. Ciao e al prossimo video! Ciao e al prossimo video!